Fuori dai soliti luoghi, in una formula aperta anche alla partecipazione della cittadinanza comunque dei non addetti ai lavori specializzati nell'ambito della giustizia organizzata da avvocati con relatori magistrati di grande prestigio per parlare di un argomento che dal punto di vista normativo è assolutamente nuovo in realtà il problema è un problema che nella realtà si è sentito molto Le immagini sessualmente esplicite pubblicate sul web hanno portato una moltiplicazione dell'effetto della violenza soprattutto della violenza di genere ma anche della violenza sui minori Affrontarla in una chiave normativa diventa importantissimo perché è un aiuto anche all'educazione di quella che è la popolazione, di quelli che sono gli utenti purtroppo del web che non sempre hanno la preparazione e l'equilibrio proprio caratteriale, formativo e culturale per poter utilizzare questi mezzi I prossimi appuntamenti del Comitato Pari Opportunità sono in fase di progettazione dei seminari riguardanti la determinazione della donna, la libera determinazione della donna che dovrebbero poi sfociare in un evento di cui non vi anticipo niente perché sarà un work in progress in realtà e si creerà direttamente con questi seminari e con la collaborazione con i colleghi perché anche questo è un argomento che comincia a diventare di fondamentale importanza per la formazione è Wolferino